Matteo, hai visto il buttafuori? Che gigantesco, io non voglio più andarci. Mi fa paura, andiamo. Andiamo a casa mia? Ma prendiamo una coca cola al bar? Però coca cola zero. Sì, riesco a ballare bene oggi. Gli zuccheri fanno male, dice mamma. Hai visto, laggiù c'è un gruppo di ragazze chiedemogli se vogliono ballare un lento insieme a noi. Un paio, mi vergogno un po'. Facciamo tipo un film. Ok. Ah frate, ma il buttafuori che si crede di essere? Matteo, ammazza questo, frate, via qua che se non ce ne fai entrate è pistote botte finché diventi un grissino.